La libertà del cuore, la serenità interiore, la gioia che nasce dalle cose semplici, la sincerità è il segno di un'azione che Dio vuole. È un po' la sintesi di quello che ci siamo detto ieri a proposito del discernimento nella nostra vita. Qualcuno mi ha scritto, chiedo scusa, dicendo ma cosa centrano queste riflessioni con la felicità? Per me la felicità è non avere pensieri, per me la felicità e non avere preoccupazioni. Questa forse non è la vera felicità, questa è una falsa felicità, è un inganno, è un inganno in cui tutti, troppi e tanti oggi noi caschiamo e quindi è un inganno del demonio, del divisore. La mia vera felicità, perché questa persona mi ha detto che lui ha guadagnato onestamente dei soldi e quindi sta bene economicamente, mi ha detto mi devo sentire in colpa. No, non ti devi sentire in colpa se questo tuo denaro uno, lo hai guadagnato onestamente e va bene. Due, hai pagato e paghi le tasse e quindi va bene anche questo. Tre, se il tuo cuore è libero, se il tuo cuore non è schiavo di quello che possiedi e va bene. E quarto, se tu condividi quello che hai con chi è stato meno fortunato di te, con chi è povero, con chi non hai mezzi. Se tu aiuti in maniera disinteressata degli altri in queste quattro situazioni, questo tuo denaro, questo tuo possedere e avere questa buona posizione economica e sociale è una benedizione di Dio. Altrimenti, se tu sei schiavo di tutto ciò, ciò non è una benedizione di Dio. Allora, qui occorre riflettere su di quello che avviene nella nostra vita. E voglio finire di leggere questa riflessione di Maurizio Costa, questo padre Gesù Ita esperto di discernimento e direzione spirituale, il quale diceva che nel dinamismo interiore, quando l'uomo è schiavo dello spirito del male, in questo dinamismo interiore l'uomo si percepisce piuttosto come una spirale che si chiude e prova un senso di vuoto, di strettezza, di schiavitù, di confusione, di ambiguità, di insicurezza, di paura o di forza, ma solo nel criticare, nel puntare il dito contro gli altri e contro tutto, nell'accusare, nel darsi alle sottigliezze di argomentazioni astratte e irreali. Si coglie in desolazione. E altre dieci righe che avrebbero bisogno di dieci mesi di approfondimento e di altre puntate. Ma noi ci vediamo domani, parli più tv dritto al cuore. Ciao a tutti!